Mercato serale a Battipaglia il 6 ed il 13 agosto è quanto disposto dall'ordinanza emessa dalla sindaca che ha accolto l'istanza presentata dall'associazione Mercà Battipaglia. L'accoglimento della richiesta permetterà di offrire un servizio diverso alla cittadinanza con la volontà chiara di invertire il forte trend negativo che vive il commercio ambulante negli ultimi tempi. Nei giorni individuati quindi il mercato giornaliero si terrà dalle 17 alle 23 invece che dalle 7 alle ore 13.